Salve a tutti signori, bentrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max e come avrete letto dal titolo parleremo di storie italiane perché ci sono state delle lacrime, lacrime da parte di una VIP e una grande emozione in studio. Quindi Eleonora Daniele che ha vissuto momenti intensi nella giornata di mercoledì 30, tutto quanto si è registrato proprio mentre la trasmissione si accingeva a concludersi, quindi nella parte finale. Infatti la conduttrice ha fatto vedere qualcosa di molto significativo all'ospite famosa e di conseguenza il pianto è stato così naturale. E proprio colei che ha fatto piangere la donna pensate che si aspettava proprio una reazione del genere come ha sottolineato proprio in un videomessaggio. Quindi forte commozione già annunciata con le lacrime della VIP che hanno rubato la scena sul finale di puntata. Qualche giorno fa è stata invece Eleonora Daniele a sfiorare il pianto dando la notizia della scomparsa dell'ex ministro Roberto Maroni dicendo Terminiamo la diretta con queste immagini, le foto di Bobbo Maroni. Per la sua scomparsa c'è il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha inviato ai familiari dell'onorevole un messaggio di condoglianze. Così ha concluso la padrona di casa. Ma nel corso dell'appuntamento con Storie Italiane le lacrime di cui prima vi parlavo hanno travolto la VIP dopo che ha ricevuto una bella sorpresa. Quindi insomma parliamo di una cosa positiva. La presentatrice Eleonora Daniele ha infatti lanciato un videomessaggio della figlia dell'ospite che si chiama Martina la quale ha detto A piangere in diretta è stata l'attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi che ha spiegato così le sue lacrime dicendo Io non potevo proprio aspettarmelo Mia figlia non fa mai questo Non ama apparire in tv Quindi maggiormente non me lo sarei aspettato Ma stavolta diciamo che ha fatto un'eccezione per la mamma Perché la mamma è sempre la mamma E i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti Con il pianto di gioia proprio della donna Anche da casa tutti hanno apprezzato quel regalo per la De Rossi E quelle parole ricche di significato ed affetto Proferite spontaneamente dalla figlia Martina Parlando delle sue ultime esperienze lavorative Visto che ci siamo Apriamo una piccola parentesi Barbara De Rossi ha recitato nel film cinematografico Con tutto l'amore che ho Parlando della sua vita privata Si è sposata con Branko Tesanovic Ballerino e coreografo E ha avuto la figlia Martina Nata il 10 ottobre del 1995 Nel 2010 purtroppo Aù può succedere Si è lasciata col conioge per problemi legati ad incomprensioni E mancata compatibilità di carattere Questo è tutto signori per questa news Vi ringrazio per l'ascolto Come sempre è stato un piacere Ci sentiremo alla prossima Grazie a tutti